allora ragazze mie ciao a tutte e ciao a tutti nuovo video chiacchiericcio sperando che si veda bene stavolta perché ribadisco non so cosa stia succedendo ma ultimamente ho acceso registra la registrazione rec come si dice non lo so e niente non so manco io se sto registrando cosa perché non vedo dall'altra parte come sono cosa sto facendo e quindi sperando che stia registrando perché l'anima volta che apro rec e non fa registrare non lo so cosa c'è questa telecamera questo telefono e quindi di mia cosa non so manco io se l'ai come si può dire aiuto se le samsung mi registrano i video in qualità posteriore cioè in hd o in full hd quello che l'è perché ogni volta fare video con questa qualità oltre alta è una cosa avvicinante perché tre volte io uno non mi vedo in primis secondis non vedo io cosa devo fare cosa vuol dire è un tutto un macello bu vabbè niente altra terza cosa volevo dirvi mi trovo un po come si può dire non non dico sciocco basita perché altro non so i video che fare perché mi trovano a ecco quando vuol dire che stavo registrando mi sembrava che sto registrando e non so registrando una mazza ho la fotocamera professionale però non so ancora cosa posso registrare perché ho l'obiettivo sporco quello della telecamera l'obiettivo l'occhiello che devo pulire ma non so ancora se riuscirò mai a pulirlo o meno perché la telecamera non è nuovissima è vecchiotta quindi fa ai suoi annetti anche lei sarebbe ora di prendere un'altra ma non ci penso neanche preferisco il telefono al fotocamera quindi non lo so non ne ho idea quindi top fantastico già e niente quindi spero nuovamente questo video sia concluso al termine perché stavo registrando quindi non lo so aspettate a seconda voglio controllare si sta registrando si sta registrando ogni volta mi prende un non so che cosa perché non ho idea di come sia questo telefono allora l'ho toccato l'ottimo di un millimetro per controllare se stesse vedendosi bene la telecamera ma in questo caso non lo so perché mi sto mettendo così aspettate un secondo ok perché non so se mi avete visto almeno mi vedevate di lato quindi io non mi devo mettere mai di lato ma mi devo mettere sempre al bel mezzo della telecamera cosa sbagliata che io faccio vedermi al lato della telecamera cioè da questa parte e non in mezzo vabbè non so devo fare varie prove per vedere come si vedono i video miei quindi non ne ho idea proverò sempre posteriore perché mi è stato consigliato da alcune persone che stimo molto apprezzo molto anche se riconosco poco ancora comunque dettagli per poter registrare sti video posteriore con la fotocamera posteriore al telefono visto con il telefonino appunto mio è un samsung altrimenti c'ho un come dire uno xiaomi ma lo xiaomi non è il massimo la qualità non è bella della luminosità quindi mi tocca andare di di samsung che perché si vede meglio 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 si infatti si vede benissimo almeno spero sia così e niente ragazze questo era tutto non so ancora come farò a montare il video perché ogni volta devo sempre stare lì col col con la pausa ma io non so ancora come fare quindi vabbè no commenti dettagli ciao ragazzi al prossimo video tag o che sia blog quello che ciao aspettate no a quanto poi non si è stoppato vabbè niente dovrò andare dall'altra parte